Una sconfitta che chiaramente influisce anche su quello che poi sarà, potrebbe o meglio, usiamo il condizionale, influire su quello che potrebbe essere poi lo stato d'animo in vista della partita col Cosenza. Che cosa è mancato stasera al Benevento, specie nel primo tempo? Il Genoa sembrava arrivare quasi sempre prima, se non togliamo il quasi sempre prima sui palloni e gli otto calci d'angolo, soprattutto collezionati dal Grifone e le due traverse testimoniano la netta superiorità, quantomeno nel primo tempo. Che cosa è mancato secondo te stasera a questo Benevento? Sicuramente nel primo tempo sono entrati meglio loro, su quello c'è poco da dire. Abbiamo preso gol alla fine su errori nostri e poi nel secondo tempo siamo usciti meglio noi. Purtroppo il primo tempo ci abbiamo messo un po' di più ad entrare in partita, ma sarà tutta un'altra partita col Cosenza. Diciamo che è stato un buon test per capire i nostri errori, migliorarli e essere pronti per il campionato. Stai iniziando ad entrare nel vivo degli schemi di Mr. Caserta, soprattutto nella ripresa ti abbiamo visto un po' più vivace, per così dire. era arrivato da un tuo crosser, poteva arrivare il 2-2, meglio anche tu nella ripresa rispetto al primo tempo o sbaglio? Sì, sicuramente ho fatto meglio anch'io nel secondo tempo come tutta la squadra. Quello è merito della squadra perché siamo usciti fuori tutti e quindi ognuno di noi poi quando la squadra fa bene riesce a dare il meglio di se stesso. Ovvio che quando la squadra è un po' in difficoltà, tocchi la palla un po' di meno, è più difficile far bene e far vedere le tue caratteristiche. Poi il secondo tempo, ripeto, la squadra ha fatto molto meglio, è uscita fuori, quindi anche io credo di aver fatto meglio il secondo tempo, sono d'accordo con voi. Per te, Billy Nuzzolillo. Ciao Elias, innanzitutto complimenti per il tuo italiano fluente. Volevo chiederti un aspetto dal punto di vista tattico, poiché ho assistito a tre allenamenti lì a cascia, ho visto che spesso nelle esercitazioni il tecnico cercava queste sovrapposizioni sulla fascia. Ho visto che oggi non sempre ci siete riusciti, anzi quasi mai, fra te, Vokic e Letizia che si inseriva. dipende dalle difficoltà che avete incontrato per il pressing asfissiante del Genoa o cos'altro è mancato? Sicuramente merito anche dall'avversario, noi proviamo a fare quello che il mister ci chiede dall'inizio di quest'anno, ma poi c'è anche l'avversario in campo, quindi merito anche loro. Poi il secondo tempo, anche quello l'abbiamo fatto molto meglio, tutti e tre diciamo sulla fascia destra. Quindi il primo tempo sono stati bravi loro a leggere anche le nostre giocate e quindi il secondo tempo, come ho detto, siamo usciti fuori pure noi e abbiamo fatto quello che ci chiede il mister, un po' di più. Senti, tu ti consideri una mezzala oppure puoi adattarti anche in altri ruoli del centrocampo, a tuo avviso? No, io mi adatto dove mi chiede il mister, però secondo me sarei più una mezzala. Poi ovviamente quello che mi chiede il mister di fare lo faccio, senza se e senza mano. Ilias, sabato, prima di lasciarti sarà tutt'altra storia contro il Cosenza, sarà campionato e poi ci sveli una piccola nota di colore. Billy ti faceva i complimenti per l'italiano fluente ai quali mi associo anche io. Ci sveli la reale pronuncia del tuo nome e cognome? Allora, la pronuncia è Ilias Kucupias. Poi niente, col Cosenza, come ho detto, sarà tutta un'altra partita rispetto all'amichevole e noi ci faremo trovare pronti sicuramente.